È stato il tedesco Pascal Ackerman ad aggiudicarsi in volata la seconda tappa del 102esimo Giro d'Italia da Bologna a Fuscecchio di 205 chilometri. Il portacolori della Bora Hansgrove ha battuto allo sprint il campione italiano Elia Viviani che ha tentato una rimonta disperata negli ultimi metri. Terzo l'australiano Caleb Iwan, solo quarto il colombiano Fernando Gaviria tra i favoriti della vigilia. La gara è stata caratterizzata dalla fuga di otto corridori che hanno avuto un vantaggio massimo di 5 minuti sul gruppo dei migliori. Fra i fuggitivi c'era anche Giulio Ciccone che è stato a maglia rosa virtuale per gran parte della frazione e che alla fine ha comunque indossato la maglia azzurra di miglior scalatore grazie anche ai punti conquistati sul San Baronto. Già sulla salita molto cara ai ciclisti toscani, in mezzo a due ali di folla contraddistinta da un tanto straordinario quanto corretto entusiasmo, si sono formati diversi gruppetti, distanziati tra loro da pochi secondi. Nonostante il passaggio velocissimo della carovana, gli appassionati sono andati in estasi quando hanno intravisto la maglia rossa del Barra in Merida di Vincenzo Nibali, beniamino locale, ma gli applausi sono stati calorosi per tutti gli atleti. In fondo alla discesa, subito dopo Lamporecchio, quando mancavano una ventina di chilometri all'arrivo, le squadre dei velocisti hanno cominciato a prendere in mano la corsa per ricompattare il tutto molto prima di intravedere il traguardo. Lo sloveno Primoz Roglic ha mantenuto la maglia rosa. Grazie. Grazie. Grazie.